Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video oggi apro insieme a voi, e apro letteralmente insieme a voi il pacco di magigliaia che ho appena ricevuto e guardate quanto è grande eccolo qui, è enorme e lo apro, vedete, tutto sigillato, lo apro insieme a voi perché come tante di voi sapranno, chi mi segue su Instagram sicuramente io ho vinto un giveaway, ho vinto il giveaway della Giulia Queen Bee, che ha un profilo Instagram ovviamente che è Queen Bee Official Page, io vi faccio passare tutto qui in sovraimpressione ho vinto questo giveaway semplicemente pazzesco quindi in questo caso sarà una sorpresissima anche per me perché vedo questi prodotti per la prima volta e insomma sono stata super felice Giulia è una ragazza fantastica, a parte di una scusitezza e di una dolcezza incredibile, io la ringrazio veramente col cuore sono felicissima di aver vinto questi premi e insomma la voglio salutare, la voglio ringraziare le mando un grosso bacione nel caso in cui lei vedrà questo video quindi vi lascio giù il suo profilo Instagram così l'andate a trovare perché pubblica delle foto sempre spaziali, come lei in fin dei conti e niente, partiamo subito ragazze io lo apro insieme a voi e vediamo da dove inizio allora, sono troppo curiosa e troppo contenta è un paccone super gigante scusatemi se perdo un attimo di tempo perché devo cercare di capire come fare allora vedete è tutto avvolto in questo bel pluriball gigantesco mettiamo tutto per terra e allora partiamo pesco eh così random allora il primo prodotto che era poi quello che quando ho visto la foto su Instagram del giveaway dove lei chiedeva quale prodotto vi piacerebbe vincere io avevo scelto oddio assolutamente questo ma non è stupendo è bellissimo scusate ma sono emozionata come una bambina allora questo si chiama shade and contour kit kit ombre et contour e di makeup revolution e dove abbiamo all'interno allora una cipria una palette da contouring quindi io vi faccio vedere cioè non vado ad aprirli poi man mano piano piano vi farò vedere tutti i prodotti questo è un video così di spacchettamento allora questa palettina ha praticamente una contour palette con tutti i colori appunto per creare contouring però secondo me si possono utilizzare tranquillamente queste nuance anche come ombretto assolutamente poi vi dicevo questa è una cipria e poi la cosa meravigliosa ragazzi sono questi due pennelli sono ecco mi metto così altrimenti c'è il riflesso della ring light sono questi due pennelli pazzeschi dove ovviamente uno è un pennello da un flat contour brush e l'altro è un fluffy blending brush quindi per stendere eventualmente appunto la cipria le polveri più chiare per andare ad illuminare è bellissimo oddio sono emozionatissima poi c'è questa mega scatola di jeffree star tutta rosa bellissima questa la conserverò sicuramente che adesso andiamo ad aprire mi sento Alice nel paese delle meraviglie è sempre bello ricevere un pensiero un regalo e sono troppo troppo contenta allora vediamo se riesco ad aprire ma perché sono sempre impedita ok ce l'ho fatta oddio guardate e questo è lo specchio di jeffree no vabbè ragazze è una chicca ma è bellissimo è troppo bello guardatemi vedete è bellissimo tutto fucsia ovviamente il mio colore preferito ed è una sciccheria troppo carino questo mi piace veramente tanto lo potrò usare per i miei get ready with me veramente veramente bello poi ci sono delle altre cose qui dentro ragazze allora vediamo un attimo facciamo un po' di confusione poi andiamo avanti allora questa è una beauty blender power pocket puff questa è una beauty blender adesso la apriamo insieme ah questa devo proprio vedete aprirla così quindi tutto in super diretta l'apertura di aiuto l'apertura di questo super pacco vediamo se riesco ok perfetto oddio ah ma questa devo capire ragazze come si usa devo vedere un attimo perché allora da questa parte qui è così tipo un po' in silicone ah ecco si infilano così le dita penso questo per stendere forse il fondo qui c'è l'elastico ah perfetto ok credo che sia così si gira l'elastico in base al lato che vogliamo utilizzare questo credo che sia appunto per il fondo e questo e questo vedete un po' più così fluffy per credo le polveri comunque devo andare a leggere per capire un attimo come si come si utilizza perché è scritto tutto in inglese e quindi insomma vi farò sapere perché non ho ancora capito come come si usa poi cos'altro abbiamo dentro vediamo c'è un altro pacchetto tutto vedete con il pluriball e questo credo che sia il fondo che spero insomma di aver indovinato la nuance perché appunto Giulia poi mi chiedeva che colore insomma doveva comunicare a machiaia per per quanto riguarda il fondo io sono andata a vedere qualche qualche swatch su su youtube ma anche diciamo le immagini su internet e io spero di aver indovinato lo vedo un po' troppo giallino però insomma lo proverò eventualmente lo mescolerò con qualcos'altro e c'è quindi il fondo di NYX il can't stop won't stop ed è questo io in base ai colori alle colorazioni che ho visto ho scelto ma secondo me questo per me va bene ho scelto il beige e questo è un fondotinta 24 ore con definizione matte diceva la Giulia nel suo in una sua storia che questo fondotinta risulterebbe essere per pelli grasse però lei ha una pelle molto secca e diceva invece che su di lei funziona benissimo si trova molto bene riesce a stenderlo perfettamente quindi insomma lo proverò e vi farò sapere sono veramente tanto tanto curiosa poi gli ultimi due prodotti di questo giveaway super super ricco e bellissimo sono un conceal and define io questo ce l'ho già ho preso la colorazione C7 perché io praticamente ho la colorazione C5 che risulta essere leggermente troppo rosata e chiara per il mio contorno occhi quindi ho preferito scegliere il C7 e questo correttore che dicono essere molto molto simile al correttore di Tarte io non ho quel correttore però ragazze vi posso dire che è splendido io mi trovo benissimo mi piace un sacco perché illumina tantissimo la zona del contorno occhi e poi è super super low cost e poi ragazze il pezzo forte di questo giveaway il Supreme Frost di Jeffree Star oddio bellissimo questo è un stavo dicendo praticamente di nuovo è un illuminante che adesso vi faccio vedere il colore è Wet Dream è bellissimo allora apriamolo insieme allora questo è il packaging oddio guardate che meraviglia vedete non ce la faccio neanche a swatcharlo è troppo bello ragazze ecco così ne swatcho proprio un angolino piccolino piccolino a parte che basta basta semplicemente poggiare il dito e quindi vi ho detto tutto ecco questo è l'illuminante è il mio primo illuminante di Jeffree Star in assoluto oh wow effetto bagnato bellissimo è stupendo bello bello è un dorato però non è un dorato chiarissimo ha una base molto molto calda quindi veramente super super bello sono felicissima veramente questi premi sono spettacolari lo so vi sembrerò anche un po' stupida per come sto reagendo però sono davvero molto contenta sono dei prodotti bellissimi quindi io ringrazio tantissimo ancora Giulia l'abbraccio forte e la saluto sono felicissima di aver vinto questo giveaway e niente sono contenta di aver condiviso condiviso con voi questa questo entusiasmo nell'apertura di questo pacco vi ringrazio come sempre vi mando tanti tanti baci mi raccomando seguite Giulia su Instagram e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao